Adesso saliamo al rifugio insieme. La luce del sole, la videocamera la punto così, con il ciccello. Qui frana un po' il terreno. Quel che resta dei scalini. Siamo già a buon punto. Un po' pervio. 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 Bivacco. Perché non c'è servizio, quindi lo chiamano bivacco. Rifugio bivacco. Belorenzo Bragini Luigi. Metri 640. A 640 metri sul livello del mare non nevica. C'è addirittura il sole. C'è il sole. Non nevica. Le montagne. Qua, passeggiata per andare al bagno. Ve lo consiglio questo bagno. Un rifugio con bagno. Un rifugio con bagno. Un rifugio con bagno a precipizio. Un bagno a precipizio. Un bagno e sotto precipizio. Sotto eh. Precipizio. Precipizio. Se ci riuscite ad andare questo bagno. Sempre se si apre. Uno si vede allo specchio. E poi non so io. Un bagno sul precipizio. Non lo consiglio a nessuno. Che non si chiude neanche la porta. Dobbiamo chiudere. Ecco. Un po' rialzare. Ecco. Ecco perché. Non abbiamo mai bisogno di andare in bagno. Un po' rialzare. E più giù. Se non cadete in qualche buco. C'è addirittura il forno del pane. Utilizzati e utilizzabili. Fiori al 27 dicembre 2015. Fiori. 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 Al 27 dicembre 2015. Casetta giù in valle. Fiori. Fiori. L'unica neve che è caduta. È quella. Dei. Dei. Dei pendolari del treno. Perché. Siamo a 700 metri. Sopra anche a 1000 metri. Niente neve. L'unica neve. Dei pendolari del treno. Fiori. 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 Fiori.